ciao a tutti e bentornati sul canale allora oggi vorrei far vedere i pochi pochissimi acquisti che ho fatto questo mese che poi pochissimi in teoria no ma in pratica quelli che ho qui sì perché la maggior parte dei libri non sono ancora arrivati le mie amiche per il compleanno mi hanno fatto un buono da ibs bello sostanzioso ho fatto un bel acquisto soltanto che purtroppo non è ancora arrivato niente dovrebbe arrivare qualcosa diciamo la prossima settimana però insomma dopo mi sembrava di andare troppo avanti con con il tempo fra virgolette e quindi ho preferito lasciarle da parte per il mese prossimo col fatto che non escono si esce praticamente vado soltanto fare la spesa come detto gli acquisti sono molto molto pochi quelli che riesco a farvi vedere si compone di tre serie manga e di due libri ora vi faccio vedere così tranquillamente quello che mi è arrivato a casa e non vi racconterò molto di questi questi vari libri insomma e albi a fumetti perché alla fine fanno parte del drop up di questo mese è quello che ho letto questo mese questo mese appunto mi sono prefissata di leggere quello che compravo per vedere di darmi un attimo un ritmo un certo come dire una certa scadenza fra virgolette per vedere se questa cosa poteva funzionare e in effetti così è stata quindi di tutto quello che vi parlo oggi ve ne parlerò molto molto meglio approfonditamente nel prossimo video che appunto è il drop up del mese insieme a queste cose che vedrete ne ho lette anche altre cosa che mi fa dire proprio brava perché era tantissimo tempo che non leggevo così tanto e quindi questo mese è stato un buon mese le entrate mi sono piaciute insomma sono soddisfatta di quanto ho comprato però vendo le ciance e andiamo avanti allora iniziamo con ali di farfalla ho preso tutto il manga che si compone di 12 albi sono albi anche abbastanza cicciosi di su morishita morishita wow ho pronunciato il nome di un autore evviva ed è un manga molto molto lieve diciamo fra virgolette è la storia di questi due ragazzi che sono praticamente uguali identici molto silenziosi abbastanza schivi e di come si possono innamorare l'uno dell'altro in questa maniera molto dolce e molto strana naturalmente come ho detto ve ne parlerò meglio nel drop up la cosa che posso dire è che vabbè le copertine sono tutte molto belle sembrano anzi sono sicura che siano state colorate all'acquarello mi piace molto e i disegni all'interno sono molto semplici con poco sfondo con pochi dettagli e particolarità insomma molto puliti e seppure non sia il mio stile di disegno preferito l'ho apprezzato molto l'ho letto in poco naturalmente perché essendo un shoujo non è che ci voglia chissà quale impegno mentale però è stato soddisfacente ve ne parlerò molto meglio poi andando avanti un altro di quei manga che avevo venduto in quel momento di pazzia in cui ne ho venduti tantissimi e poi dopo me ne sono pentita di tutti praticamente ho recuperato love begins di questo out no di questa autrice a canon minami ho altre due direi opere uno deve essere on e on e drops è un altro che mi sfugge in questo momento forse è p meri una cosa del genere o team bride forse team bride è il tipico shoujo che piace a me non troppo adolescenziale non troppo adulto che si svolge nei suoi 15 volumi nell'arco di diversi anni dall'inizio delle scuole superiori fino alla vita adulta è una storia molto molto carina molto dolce molto semplice nel suo diciamo svolgersi e scusatemi sì ho delle unghie rotte ma visto che la ragazza che mi fa le unghie è comunque una mia amica ma non la posso vedere continuerò a perdere pezzi così insomma vabbè non fateci caso sono orrende ma non posso farci nulla comunque lo stile di disegno mi piace tantissimo è come ho detto il mio preferito un pochino più particolareggiato a volte talvolte poetico con questi primi piani occhioni dettagli che mi piacciono molto mi piacciono i capelli strano da dire però mi piace come sono disegnati i capelli in queste opere e hanno non so un qualcosa di molto reale nonostante naturalmente siano soltanto disegnati io vi prendo ad esame naturalmente il primo volume però ce ne sono 15 in questa in questa storia ve ne parlerò comunque come ho detto anche per l'altro l'ultimo è per colpa tuo mi batte il cuore anche questo è un primo volume i volumi in tutto sono 5 in realtà sono 5 più 1 stavo controllando sono 5 più 1 perché l'ultimo volume è un volume extra che vi racconta anche le storie parallele quelle degli amici dei secondi protagonisti insomma di tutto l'entourage di questi due protagonisti principali la cosa che mi piace di questo qui a parte la brevità e naturalmente i disegni è che è una storia semplice nel suo accompagnamento naturalmente perché scioggio semplice e corto quello che vuoi però è quello che dà queste emozioni un po non so mi viene in mente frizzicarelle non so perché forse l'ho sentito da poco forse è solo mafia che lo dice spesso frizzicarelle e ultimamente ho visto molti video di questo ragazzo se non lo conoscete andate a vederlo perché è fantastico fa morire da ridere comunque come ho detto ve ne parlerò molto meglio però è stato un ottimo acquisto anche questo ultimo forse il recuperone più recuperone con un culo se mi permettete strato sferico nell'averlo trovato a così poco ho vinto un'asta su ebay è orfeus oppure la finestra di orfeo naturalmente se sapete riconoscere i disegni saprete anche che è di ryoko ikeda ossia l'autrice di lady oscar cosa aspettarsi da questo manga dolori solo dolori perché è naturale che un manga di questa autrice possa soltanto portare oltre a grandi gioie grandissimi dolori naturalmente i disegni sono quelli classici i miei favoriti ho ritrovato nel volto della nostra protagonista il volto di lady oscar naturalmente e l'ho amato follemente è stata una pugnalata al cuore estrema però è stato meraviglioso la cosa bella oppure non proprio bella per me perché non sono più abituata si legge nel verso normale quindi si legge da sinistra a destra invece che al contrario come tutti gli altri manga si compone di 14 volumi sono un pochino più grandi rispetto ai manga che si vedono adesso in giro un pochino più larghi un pochino più alti però fanno la loro porca figura in libreria e sono davvero davvero bellissimi è un'edizione vecchia perché questa è un'edizione del 2004 non sono convincente non sono sicura sia l'unica edizione sia uscita non mi sono informata granché perché quando l'ho vista già l'avevo vista da afrodite urania quindi da eli e me ne sono innamorata pazzamente quindi non è che mi sono fatta granché domande ho preso e ho cercato come una pazza tipo la balena bianca moby dick e l'ho trovato finalmente l'ho pagato anche poco per il tipo di manga che è il numero di volumi e la rarità di questa serie quindi ve ne parlerò molto presto poi passiamo agli unici due libri sono due libri totalmente diversi l'uno dall'altro e anche abbastanza diversi da quanto io leggo di solito il primo che ancora il segnalibro dentro perché sto ancora finendo di leggere insieme l'ultimo insomma che ho in lettura ne ho due in questo momento è un libro che ho preso sulla scia di morgana che è il libro che vi ho fatto vedere l'ultima volta l'ultimo video che vi ho fatto vedere insomma dei libri tipo avrop up dell'anno scorso di michela morgia mi aveva affascinato appunto per questo per lo stesso topic per lo stesso argomento che si diciamo dipana all'interno di queste pagine e ho preso il catalogo delle donne valorose di serena dandini allora devo essere sincera leggendo questo libro ho ritrovato in tutto e per tutto morgana poi ho dato uno sguardo alla data di uscita di questo e a morgana e questo è uscito prima adesso non per voler mettere a paragone due libri che si somigliano ma io ho come l'impressione che la murgia abbia preso spunto da questo per creare le sue morgane senza nulla togliere la morgana che mi è piaciuto immensamente comunque è più o meno la stessa cosa soltanto che qua dentro di donne ce ne sono molte di più i racconti delle donne sono un pochino più corti comunque anche di questo naturalmente ve ne parlerò molto presto è un bel tomo mi piace come è fatto questo questo libro della best seller della mondadori molto molto carino compatto con le pagine di una carta molto spessa e delle belle illustrazioni a ogni inizio di capitolo ultimo ma non ultimo mi sono fatta trascinare da uno degli ultimi dramma che ho guardato siamo un lover e mi sono buttata un giorno che ero in supermercato insomma l'ho visto e ho detto vabbè proviamo ho preso il canto dell'usignolo il primo romanzo della saga degli autori di lian herm che è un'autrice inglese allora tornano le tossi che bello allora in realtà mi sono approcciata a questo romanzo solo e soltanto per il manga cioè il manga per il drama perché l'ambientazione mi sembrava simile perché mi ero lasciata coinvolgere da questa diciamo passione momentanea per appunto questo tipo di ambientazione storia la cosa che mi ha fatto andare sul sicuro è che l'autrice è un'autrice inglese quindi non avevo a che fare con un autore orientale e sapete che io non ho mai letto niente di un autore orientale a parte i manga quindi sono ancora un po' titubante ho ancora un po' fra virgolette paura timore di questo genere di autori però intanto diciamo pucciato un piedino in questo mondo è un'edizione molto bella gigantorme un po' insolita per le edizioni EO però insomma non è niente male la tariffa tutto sommato non è neanche troppo male perché sono 16,50 euro per un volume rigido con sovracoperta mi piace questa illustrazione mi piace molto e l'ambientazione insomma non mi ha deluso poi naturalmente come detto ve ne parlerò perché di questo ho molto da dire questi sono gli acquisti di questo mese forse è il book haul più scarno che io abbia mai fatto da quando ho aperto il canale perché voi sapete che io sono una compratrice compulsiva e che mi piace molto accumulare i volumi romanzi libri ovviamente complice il fatto che non arriva lo stipendio non so quando arriva la cassa integrazione e non esco non ho potuto fare altri acquisti comunque nei prossimi mesi ci saranno naturalmente con l'incremento delle uscite un incremento anche delle mie entrate sperando che mi si stabilizzi anche l'entrata dei liquidi nel mio conto bancario quindi se avete qualche qualche domanda in base su questi libri e manga non vi preoccupate verrete soddisfatti nel prossimo video e io spero che anche questo poco vi sia piaciuto noi ci vediamo la settimana prossima con il video del drop up non appena ho terminato i libri lettura un bacio a tutti a presto